Buon pomeriggio gentili telespettatori dal campo di tiro di Conselice in provincia di Ravenna va in scena il campionato italiano di Fossa Olimpica i primi saranno gli eccellenza quindi gli uomini con i sei finalisti sono Armiraglio Claudio, Maurizio Bartolini poi abbiamo Pierluigi Sollami il campionato italiano in carica Rodolfo Viganò, quindi Giovanni Pelliello e Daniele Resca io saluto, ringrazio anticipatamente per ciò che farà al nostro fianco Sabatino Durante, buon pomeriggio Sabatino Buon pomeriggio una finale con punteggi abbastanza bassi se si escludono ovviamente Sollami e Pelliello e Daniele Resca che vanno da 119 a 120 su 125 quindi punteggi tutto sommato abbastanza buoni è chiaro che da parte di Giovanni Pelliello, ottavo a Londra nell'Olimpiade sfortunata fuori dalla finale per un solo piattello c'è la volontà di un riscatto anche se parziale perché un campionato italiano non può ripagarlo dell'amarezza di una medaglia persa Amarezza, Giovanni ha fatto benissimo a Londra un piattello sotto il 122 che gli permetteva di entrare in finale poi ha vinto Giovanni Cernogorz che aveva un piattellino più di lui io non credo a amarezza dopo aver salito i gradini del podio per tre volte in tre Olimpiadi uno non può dirsi deluso se fa tutto quello che è possibile fare lui probabilmente è partito male nella prima giornata ma ha fatto una grande gara ed è un tiratore che secondo me ancora ci darà grandi soddisfazioni poi il campionato italiano sulla sinistra intanto scusami Sabatino il commissario tecnico Albano Pera sulla destra il presidente federale Luciano Rossi il campionato italiano a volte è più difficile di una Coppa del mondo tu stavi parlando di punteggi bassi insomma 120 non è un punteggio basso se tu pensi che all'Olimpiade si entrava con 122 e considera che siamo a settembre cioè a fine stagione ci sono i saldi quindi ci sono i saldi anche per quanto riguarda i risultati non mi hai ascoltato bene io parlavo di punteggi bassi per quanto riguarda gli altri tre finalisti se si accetto appunto Sollami, Pellielo e Resca tra 119 e 120 ci possiamo anche stare anche per un campionato italiano i sei finalisti abbiamo detto Maurizio Bartolini sarà il primo a sparare è pistogliese di 38 anni è entrato con lo spareggio con 116 su 125 la stessa cosa si può dire di Claudio Armiraglio il baresino di 40 anni anche lui con lo spareggio e con lo stesso punteggio poi arriviamo a Rodolfo Viganò 41enne della forestale ovviamente gli appassionati lo conoscono perché parliamo di un super campione tra l'altro riserva olimpica due vittorie in Coppa del Mondo per lui grandi risultati 118 su 125 poi abbiamo Pierluigi Sollami il campione italiano in carica un siciliano di Caltanissetta di 39 anni e alla sua terza finale consecutiva 119 per lui Giovanni Pellielo è inutile dire chi sia Giovanni Pellielo poi Daniele Resca che fa parte dei Carabinieri 26 anni bolognese 120 su 125 per l'esattezza lui è di Pieve di 100 e vanta un argento in Coppa del Mondo proprio nel 2010 ad Acapulco e un argento europeo a Maribor nel 2006 intanto ci siamo è iniziata primi piattelli primo zero purtroppo proprio per Maurizio Bartolini si è partito male l'emozione probabilmente da una grande finale per lui Viganò a segno Sollami già è contento perché è la terza finale l'anno scorso ha vinto nel 2008 all'onato quando ha vinto proprio Giovanni Pellielo l'ultimo mondiale l'ultimo dei sei europei mi sono allargato mondiale vinto da Pellielo sei da senior due da junior e in quell'occasione arrivò terzo Fabio Sollami non Pierluigi Sollami e oggi è arrivato oggi il fratello Fabio è arrivato a 113 si è fermato un piattellino sopra Massimo Fabrizio e dice beh questa è l'unica consolazione che ho di aver fatto un piattello più di Massimo Fabrizio insomma che è rimasto fuori Massimo Fabrizio a Argento a Londra abbiamo parlato prima dell'inizio di questa finale di campionato italiano con Albano Pera e ovviamente sia per Fabrizi che per Jessica Rossi che ritroveremo poi nella finale femminile ovviamente non ci sono grandi prestazioni il perché è facilmente intuibile da quelle medaglie e soprattutto Jessica Rossi da quell'oro con record assoluti c'è stata grande pressione sono stati invitati in ogni dove la pressione medievica è stata enorme per gente che non è abituata ovviamente a queste luci della ribalta sono rimasti comunque con i piedi a terra continuando a lavorare è chiaro però che la forma un po' scende Davide soprattutto ripeto un campionato italiano soprattutto un campionato italiano di fossa perché mentre a livello internazionale probabilmente c'è parità di tiratori nello skit ma in Italia sicuramente la cosiddetta disciplina regina è chiaramente la fossa è un campionato italiano di fossa ripeto è davvero fra virgolette una guerra cioè vincere è difficile e quindi anche campioni straordinari come Jessica Rossi e come Massimo Fabrizi se fanno un po' troppo festa e si allenano un po' meno poi trovano veramente la festa in tutti i sensi quando arrivano sul campo di gare e battere o tenere dietro per esempio Fabrizi oggi di un piattellino per Fabio Sollami potrebbe essere davvero una grande consolazione questa è la situazione intanto Giovanni Pelliello e Daniele Resca pieno puntigio sono partiti appagliati Rodolfo Viganò insegue con 121 fino a questo momento ci sono stati tre errori due proprio da Sollami secondo e terzo piattello e in apertura con Bartolini è un po' sorprendente questa bicicletta da parte del siciliano campionato italiano in carica ma io credo che ci sia anche una componente emotiva dovendosi trovare per la terza volta consecutiva in una finale di un campionato italiano un titolo da difendere per lui che non è abituato a calcare le pedane internazionali in continuazione per lo zero di Pelliello intanto Resca invece va a segno quindi a lunga di un piattellino è importante questa finale perché Resca è un papabile un papabile per la nazionale e per Giovanni non è una consolazione ma chiaramente deve dimostrare a se stesso anche se ha 4 anni davanti per dimostrarlo a tutti che ha voglia e ha le motivazioni giuste per andare avanti ecco qui Rodolfo Bigano della Forestale grandissimo tiratore dopo di lui Pierluigi Sollami si che intanto se va a segno recupera un piattellino rispetto a Pelliello quindi lui a destra eccolo qua invece un errore si ha sparato basso è importante come risponda Johnny risponde bene questa fumata è piena con sicurezza si deve mettere pressione un po' a Resca che comunque è uno che spara molto bene soprattutto in finale un tiratore giovane giovane 26 anni è il momento giusto per spiccare il volo 125 intanto per Resca quella è il piattello che avevi segnalato su Giovanni Pelliello e quindi Rodolfo Bigano a 123 Sollami rischia di dare addio al titolo di campione italiano si pensavo avesse superato dopo la bicicletta nella seconda e terza tornata è tornato con questo zero quindi evidentemente sento un po' la pressione come dicevi tu della finale che potrebbe dargli la consacrazione sai due tre finale consecutive se poi vinci anche due titoli italiani consecutivi non sei diciamo così che arrivi lì per caso anche se Sollami non è arrivato per caso però chiaramente se ripeti il titolo evidentemente sei un fucile da prendere in considerazione anche per la nazionale niente occhiali per Sollami tanto meno paraocchi come è caso invece di Giovanni Pelliello che commette un altro errore un altro zero per il Vercellese non sente la pressione resca importante anche il test psicologico su questo ragazzo due piattelli di vantaggio su Pelliello e Bigano certamente è una prova importante per il Bolognese ci troviamo a Conseli c'è un cielo nuvoloso questo è uno zero Davide uno zero da parte di Claudio Armiraglio il cielo dicevamo è abbastanza nuvoloso e a tratti minaccia pioggia lo zero ha sparato sotto non ha tirato questi centrali sono sempre un po' particolari perché ti gabbano con facilità sempre il solito errore del tiratore della domenica ma lo fa anche un straordinario campione come Rodolfo Viganò alzi su la testa e non porti su con te il fucile il fucile resta sotto e quindi va via il piattello è strano questo errore di Giovanni e il secondo consecutivo lo zero però gli restituisce lo zero è il primo di Daniele a questo momento non c'è un solo dei sei tiratori a pieno punteggio tutti quanti hanno commesso almeno un errore questa è la situazione riprendiamo proprio con Maurizio Bartolini questo Pistoiese adesso brandeggio a sinistra coprendo bene anche se è un po' in estremis al momento si sembra che Rodolfo Viganò sia colui che ha il colpo più sicuro il colpo come possiamo dire che dà la sensazione di maggiore sicurezza maggiore certezza altro errore per Solami che proprio non c'è quarto praticamente la percentuale del 50% otto piattelli 4-0 e Giovanni va a segno finalmente anche lui tre errori Davide non è la visibilità è scarsa questo cielo plumbeo non fa vedere non fa vedere bene il piattello all'uscita è vero c'è una una luce troppo vivida il secondo errore di Bartolini e chiaramente se non riesci a vedere il piattello all'uscita trovi un po' di difficoltà poi a centrarlo a individuarlo un po' l'uscita del piattello è un po' individuarla bene un po' come nel calcio lo stop se tu stoppi bene la palla poi hai facilità di fare qualsiasi tipo di azione Sabatino Durante un po' malato ai tempi comincia il freddo si è ripreso Pellielo non era facile questo piattello lo zero lo zero qui c'è un altro zero di Resca tre zeri anzi due zeri sino a questo momento ma è solo è sempre in vantaggio il bolognese guarda Viganò è rientrato in giro Pellielo e Viganò sono pari davanti Resca con un piattellino ma siamo soltanto agli inizi solo agli inizi perché la situazione può evolvere in qualsiasi modo ma certamente sì e soprattutto a un colpo solo anche al maschile le sorprese sono sempre dietro l'angolo ma per Resca avere dietro due tiratori importanti uno straordinario come Pellielo e Viganò ha strappato questo lo ha strappato proprio Solami io credo che abbia mollato visto il doppio zero verso sinistra il piattello di Pellielo coperto abilmente va a segno anche Daniele Resca e riprendiamo con Maurizio Bartolini quando ci avviciniamo all'undicesima l'undicesima per la terza volta lui passa in prima pedana quindi è l'undicesima tornata situazione invariata in classifica in teoria potrebbero essere ancora in corsa i tre che avete visto a 124 ma soltanto in teoria dovrebbero sbagliare questo è uno zero questo è uno zero credo vediamo se sono d'accordo con me i giudici no io ho visto uno zero probabilmente i giudici hanno visto un frammento del piattello staccarsi quindi terzo errore per Claudio Armiraglio allora seguiamo intanto la parte centrale diciamo della gara Viganò va a segno intanto mette pressione non tanto a Solami che credo abbia a Peglielo ma Peglielo sa tenere qualsiasi tipo di pressione certamente si e se rompe Peglielo perresca estremo destro difficile questo piattello e sono i piattelli che normalmente Giovanni soffre di più però risca risponde a tono si risponde a tono soprattutto dal punto di vista psicologico perché tecnicamente è un tiratore eccellente si no a questo momento se consideriamo soltanto la finale Bartolini e Resca sono coloro che hanno sparato meglio contando i piattelli centrati cioè 9 a testa 10 in questo momento Viganò che è quello che ha sbagliato bene un solo errore un solo errore Viganò anche Viganò certamente è il migliore un solo errore per lui Solani 5 errori finora Giovanni Peglielo 3-0 finora